buona giornata a tutti vi invito ad ascoltare con attenzione perché c'è in atto una nuova truffa la truffa della carta dedicata a te o carta spesa da 500 euro ed è lo stesso istituto impesa a mettere in guardia tutte le persone stanno arrivando tantissime mail con la scritta ecco come recuperare l'importo di 500 euro per la carta dedicata a te cliccare sul link sottostante per recuperare l'importo che vi arriverà tramite bonifico pertanto vi invito a fare attenzione non cliccare sotto nessun link non date i vostri dati perché si tratta solo ed esclusivamente di una truffa per recuperare per rubare i vostri dati per altri utilizzi la stessa impesa raccomanda di non cadere in questa truffa perché le ricariche le fanno gli uffici postali e non arrivano tramite bonifico quindi ripeto attenzione alle mail che vi arrivano dove vi dicono ecco come recuperare l'importo di 500 euro per la carta dedicata a te è una truffa non cliccate su nessun link